Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura alla cronaca, gli agenti della Polizia locale di Bari hanno arrestato il presunto responsabile della morte di Giovanni Vittore, 21enne coinvolto in un incidente stradale domenica pomeriggio scorsa nel quartiere Iapigia. Tutti i dettagli nel servizio. Svolta nelle indagini sulla morte di Giovanni Vittore, 21enne deceduto domenica pomeriggio in un incidente stradale nel quartiere Iapigia di Bari, non è stata una caduta accidentale a causare la scomparsa del giovane sbalzato dalla sua moto mentre percorreva via Gentilia all'altezza del Sacrario dei caduti d'oltremare. In nottata la polizia locale ha arrestato un soggetto ritenuto il presunto responsabile della morte del giovane. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, pare che la verità sia spuntata grazie alle immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona. Un altro centauro su una moto bianca, si legge nella ricostruzione, avrebbe effettuato un'inversione a U, costringendo il 21enne a una frenata improvvisa che le ha fatto perdere il controllo del mezzo, finito prima contro la moto dell'arrestato e poi sull'asfalto. Dai video analizzati dalla polizia locale, lo scontro avrebbe causato anche la caduta del presunto pirata della strada che una volta in piedi si sarebbe rimesso in sella per fuggire lasciando il corpo esanime del ragazzo sull'asfalto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e gli uomini della locale che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilevi del caso. Il presunto responsabile dell'incidente dovrà rispondere di omicidio stradale. Tanti messaggi di cordoglio arrivati poco dopo la scomparsa del 21enne. Amici e conoscenti del liceo scientifico Salvemini, frequentato fino a pochi anni fa da Vittore, hanno lasciato decine di commenti sulla pagina Facebook dell'istituto. I funerali del giovane saranno celebrati domani nella chiesa di San Marco a Iapigia. Noi invece cambiamo argomento, parliamo di politica. Il Consiglio regionale ha respinto la reintroduzione del tanto chiacchierato trattamento di fine mandato, proposta di legge che prevedeva un assegno da 35 mila euro per i consiglieri. Chiesta anche l'indizione di un referendum abrogativo sull'autonomia differenziata ha soddisfatto il governatore Emiliano. Siamo riusciti a sventare questa manovra, a respingere la proposta di ripristino del TFM e a votare la delibera sul referendum, quindi diciamo 10 a 0. È un Michele Emiliano soddisfatto all'indomani della battaglia in Consiglio regionale. La maggioranza ha infatti ottenuto due successi dicendo no alla reintroduzione del TFM, trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali, e chiedendo l'indizione di un referendum popolare per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Una seduta animata dalle proteste del centrodestra, dopo una trattativa tra i consiglieri della maggioranza e la sospensione dei lavori per la mancanza del numero legale, è stato votato un emendamento soppressivo che ha cancellato l'articolo 1 della proposta di legge, passata in un primo momento con la votazione a scrutinio segreto per reintrodurre l'assegno da 35.000 euro per il fine mandato, facendo decadere l'intera proposta. Io ho anche detto che con i tempi che corrono e con la difficoltà che hanno avuto di farsi comprendere dai cittadini, non era certamente il caso di forzare la mano. Devo dire che mi hanno ascoltato, è stata dura perché ieri è stata una seduta dura, durissima anche perché il centrodestra ha cercato di, da un lato, incoraggiava i consiglieri di maggioranza a infilarsi in questo tunnel e poi per altro verso ha cercato di sfruttare questa situazione per bloccare il voto sul referendum. Nessun problema invece sulla questione autonomia differenziata con la richiesta del referendum abrogativo passata grazie al voto di 25 consiglieri. Ci auguriamo che si possa trovare un equilibrio migliore tra nord e sud senza pregiudicare gli sforzi che la Puglia sta compiendo assieme alle regioni del Mezzogiorno. Ha concluso Emiliano. In arrivo entro il 2026 circa 60.000 posti letto per gli studenti fuori sede su tutto il territorio italiano. La misura prevista dal PNRR potenzierà l'offerta di alloggi universitari anche nelle città pugliesi, il servizio di Giuliana Vendola. Sono migliaia gli studenti e le studentesse fuori sede che cercano quotidianamente case o stanze in affitto nelle città universitarie italiane, diventati introvabili e in troppi casi un salasso in termini di costi. Ragazzi e ragazze che entro il 30 giugno 2026 dovrebbero poter tirare un sospiro di sollievo grazie alla riforma 1.7 finanziata dal PNRR che prevede la messa a disposizione di circa 60.000 posti letto in più mirando a potenziare l'offerta di alloggi universitari in Italia e cercando di portarla ai livelli europei. Un intervento su cui verranno investiti fino a 1,2 miliardi di euro che riguarderà anche i comuni in cui sorgono gli Atenei pugliesi dove vi è un'estrema urgenza di camere e appartamenti. Pensiamo che i nostri studenti non devono sopravvivere soprattutto quelli fuori sede nelle città dove studiano ma devono vivere ed essere chiaramente futura classe dirigente. Quindi per noi è importante soprattutto per chi non ha i mezzi economici e deve avere la possibilità di studiare. Solo a Bari si prevede la realizzazione di circa 4.000 posti letto per i fuori sede. Ora bisognerà vedere con quali modalità e soprattutto dove. Una delle proposte è quella di utilizzare il patrimonio demaniale dismesso, penso alla caserma Magrone su via Mendola che ha un'estensione territoriale di quasi 100.000 metri quadri, quindi sono 10 ettari al centro della città nelle vicinanze del Politecnico. Dopo c'è gran parte del patrimonio dell'ospedale Bonomo, così come ho proposto anche in campagna elettorale, si potrebbero utilizzare alcune stecche dell'ospedale Bonomo adeguatamente riqualificate e rigenerate per ospitare housing universitario. Ed è arrivato il momento di passare alle notizie provenienti dal nostro sito web www.telebari.it Lo facciamo con Italo 5 Palmi. Ciao Italo, ben ritrovato. Sì Giuseppe, un vasto incendio si è sviluppato oggi nel bosco che sovrasta la Baiera San Felice a Vieste, sul Gargano, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con un canadere della flotta aerea dello Stato per il contrasto agli incendi boschivi. È una situazione critica, ha detto il sindaco Giuseppe Nobiletti, e il quinto tentativo in una settimana stamani ci sono riusciti. La preoccupazione è per il vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi, struttura che ospita circa 2.000 persone. E andiamo avanti, sette nuovi autobus ibridi delle ferrovie sud-est circoleranno nei prossimi giorni sulle strade pugliesi, contribuendo a rendere più sostenibile il trasporto pubblico. I nuovi mezzi, grazie al motore elettrico supplementare che funge dal generatore nelle fasi di frenata e di rilascio dell'autobus, consente un risparmio di carburante e di emissioni di CO2, dotati delle più moderne e avanzate tecnologie per viaggiare in sicurezza, offrono 80 posti a sedere. E chiudiamo, l'ex difensore Valerio Di Cesare, dopo l'addio al calcio, si prepara a salutare il pubblico di Bari dopo ben otto stagioni, prima della gara del 31 luglio contro la Salernitana, in programma alla cerimonia di tributo al capitano, che dopo 235 partite in bianco-rosso, 21 reti e due campionati vinti, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Bene, con questo è tutto per oggi, a te buona giornata. E grazie, grazie al nostro Italo Cinque Palmi. Noi voltiamo pagina perché si apre al castello Svevo la mostra fotografica a Francesco Martino e l'impresa olimpica di Parigi 1924. Un tributo all'atleta barese a 100 anni dei suoi ori alle Olimpiadi, proprio di Parigi 1924. Vediamo. Nella ginnastica era la più grande speranza dell'Italia. Si legge in una delle pergamene, affirma Giacomo Favia, che descrivono l'impresa giunonica compiuta dall'atleta barese Francesco Martino alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Perché quel campione incredibile della società sportiva Angiulli, cent'anni fa, proprio in quelle gare, arrivò a vincere due medaglie d'oro. Una individuale negli anelli, l'altra squadra nella ginnastica. Pagine storiche di quotidiani che narrano quell'avventura, fotografie, trofei e reperti del campione sono in mostra dal 24 luglio al 29 settembre nella sala Sveva del Castello Svevo di Bari. Si tratta di un'esposizione dedicata interamente a Martino, primo pugliese a salire due volte sul gradino più alto del podio dei giochi e che cade in occasione dell'inizio delle Olimpiadi che si terranno quest'anno ancora una volta nella capitale francese, da luglio ad agosto. La mostra sarà poi chiusa da un apposito francobollo commemorativo emesso da poste italiane nell'ultima decade di settembre. È un'iniziativa di un doveroso tributo ad un barese dalla storia eccezionale di cui grazie all'impegno dell'associazione Angiulli, l'associazione sportiva, nonché dei veterani e di tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita, da atto di una delle tante storie poco conosciute di questa città. E quindi quale miglior sito per accoglierla se non il Castello Svevo? Presidente, è una mostra dedicata a Francesco Martino, un atleta barese che cento anni fa vinceva due ori olimpici. È un significato enorme, importantissimo per la città di Bari, per la Puglia, ma soprattutto anche per l'Angiulli, visto che Francesco Martino è un atleta dell'Angiulli che ha vinto ben due medaglie olimpiche cento anni fa nell'Olimpiade di Parigi. È una mostra che poi continuerà presso l'Angiulli a partire dal 29 settembre. E invece passiamo allo sport. Si chiude oggi il ritiro estivo della SSC Bari. Oggi pomeriggio i biancorossi sfideranno il Frosinone in una partita amichevole a Fiuggi. Telebari trasmetterà in diretta il match a partire dalle 17.30. Sarà possibile seguirlo sul nostro canale TV, in diretta Facebook e in streaming sul nostro sito web. I ragazzi allenati da Moreno Longo torneranno ad allenarsi a Bari in vista dell'amichevole estiva in programma mercoledì 31 luglio alle ore 20.30 al San Nicola contro la Salernitana. Sarà proprio l'occasione per dare l'addio al calcio a Valerio Di Cesare, ex capitano dei biancorossi e attuale vice direttore sportivo della società. Noi invece cambiamo completamente argomento. L'associazione culturale e la fabbrica della Cappella ha organizzato la quinta edizione del corteo storico sulla storia di Canneto e del patrono di Adelfia, San Vittoriano. Tutti i dettagli nel servizio di Raffaella Di Renzo. Più di 250 anni e questa tradizione trova ancora posto nel cuore degli abitanti di Adelfia, nel rione Canneto. Ad aprire la quarta edizione del corteo storico è il rullo reboante di tamburi dei suonatori, partiti da Largo Castello su via Santa Maria della Stella, seguiti dagli sbandieratori Milizia Sancti Nicolai di Bari, intenti nella loro armoniosa esibizione in piazza Roma davanti all'arco Gironda, abili nel far compiere evoluzioni alle bandiere. Il 23 luglio 1753 in questo paese, un piccolo borgo Canneto di Bari, arriva il sacro corpo di San Vittoriano regalato dai principi Gironda che erano feudatari di Canneto e che si erano trasferiti a Napoli da diversi anni, però erano molto affezionati al nostro territorio. Quindi ci hanno regalato questa teca con il corpo intero del santo. I resti mortali di un martire africano, San Vittoriano, che da quel giorno diventa patrono del paese. È un santo africano che viene da Cartagine. Nella rievocazione storica sono rappresentati tutti i primi miracoli fatti, legati al territorio e dalla tradizione popolare, ricercati nei documenti storici di quel periodo, scritti in linguaggio arcaico e conservati nell'archivio parrocchiale. Quinta edizione organizzata dall'Associazione Culturale La Fabbrica della Cappella, che ha realizzato i meravigliosi abiti utilizzati nel corteo storico, riciclati da antichi vestiti offerti dai cittadini e cuciti grazie al contributo delle sarte. Questo santo arriva a San Vittorio Anicchio, viene ricevuto da tutto il popolo e da quel giorno diventa patrono del paese. Il corteo e la rievocazione recitata dell'arrivo delle ossa del santo con la rappresentazione dei primi miracoli conta 70 figuranti attori e decine di collaboratori. Di inabiti settecenteschi meravigliosi realizzati dalle nostre sarte, sono favolosi. Noi passiamo alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province pugliesi. Partiamo da Alberobello dove si è conclusa la fase di coprogettazione per la candidatura capitale italiana della cultura 2027 e ci spiega tutto Francesco Russo. Sono cento i progetti complessivi a fronte di oltre 300 partecipanti raccolti durante i quattro tavoli tematici per la candidatura di Pietra Madre, il progetto di capitale italiana della cultura 2027 di Alberobello, Noci, Polignano e Castellana. Dalla cura del territorio ai nuovi turismi alle innovative fonti energetiche, le linee di indirizzo emerse durante la fase di coprogettazione sulle aree tematiche giovani, welfare culturale, valorizzazione dei beni culturali e turismo, innovazione, con il coinvolgimento di cittadini, consulte, associazioni culturali, operatori sociali, gruppi sportivi, imprenditori, artisti e liberi pensatori. Noi vogliamo diventare attivatori culturali, quindi fare un passaggio ulteriore, attivatori di un intero territorio e per questo insieme agli altri comuni come capofila ci siamo candidati sapendo bene quali sono le potenzialità che questo territorio ha per la sua bellezza, per la sua unicità nel mondo e sapendo che possiamo parlare all'Italia, possiamo diventare un modello di crescita territoriale e non di un solo comune e possiamo sviluppare tutta la cultura che questo territorio rappresenta. Lo straordinario risultato raggiunto ha suggerito di prorogare al 28 luglio il termine per la presentazione dei progetti. Pietra Madre è affidato all'archistarra Marco Piva in veste di direttore artistico e all'agenzia scopero per l'organizzazione generale la stesura del dossier. Un ottimo metodo per iniziare questo lungo viaggio che ci vedrà fino al 26 settembre quando candideremo il dossier al Ministero della Cultura. Noi invece parliamo di Casa Artigiani Taranto, ci sono timori sui crediti maturati prima dell'avvento dell'amministrazione straordinaria ILVA e c'è preoccupazione sulle politiche di affidamento degli appalti di Acciaierie d'Italia e il servizio di Angelo Ingenito. La gestione dell'ex ILVA è stato oggetto di preoccupazione per la Casa Artigiani di Taranto a causa della nuova amministrazione straordinaria. Gli autotrasportatori tarantini hanno convocato una conferenza stampa presso il sindacato e i datori di lavoro artigiani per denunciare gli affidamenti limitati da parte di Acciaierie d'Italia a poche aziende per il servizio di trasporto. Gli associati chiedono un ristoro del 100% e hanno dubbi sul pagamento dei crediti maturati prima dell'arrivo dell'amministrazione straordinaria. La vertenza Acciaierie ci ha investito già da parecchio tempo. Ad oggi siamo arrivati a una situazione di poca chiarezza e poca trasparenza nella gestione sia degli affidamenti relativamente agli autotrasporti sia al vecchio. Quello che denunciamo stamattina è che abbiamo chiesto nei giorni scorsi sia ai commissari che al sottosegretario Mantovano è un incontro urgente del tavolo che a marzo ormai si è interrotto con le associazioni datoriali. Abbiamo bisogno di incontrare e avere trasparenza e chiarezza a su quello che è il futuro del pagamento dei crediti vecchi, b qual è il futuro dell'azienda ma qual è il futuro dell'organizzazione del lavoro. In quanto ricordiamo, l'abbiamo chiesto più volte, una clausola sociale per il territorio, una clausola sociale per le aziende che hanno già perso dei soldi nelle varie amministrazioni straordinarie. Sono aziende che vanno tutelate e famiglie che vanno tutelate. E ora ci spostiamo a Foggia, precisamente a San Nicandro Garganico, dove i carabinieri hanno scoperto un'estesa piantagione di marijuana che poteva fruttare profitti leciti per 2 milioni di euro, ce ne parla Nicola Saracino. I carabinieri di San Marco in Lamis hanno scoperto un'estesa piantagione di marijuana in un'area rurale del comune di San Nicandro Garganico. I militari dell'arma hanno individuato tre soggetti di età compresa tra i 30 e i 50 anni, accusati di aver provveduto a vario titolo alla coltivazione e alla guardiania della piantagione di marijuana, composta da circa 1200 piante quasi al termine del ciclo di fioritura e di altezza compresa, fra un metro e un metro e mezzo. La commercializzazione delle piante sequestrate avrebbe consentito di mettere sul mercato illecito circa 195 mila dosi di sostanza stupefacente, garantendo così profitti per circa 2 milioni di euro. I tre indagati, tutti sorpresi nei pressi della coltivazione, sono stati tratti in arresto in fragranza per il reauto di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e portati in caccere a Foggia. Bene ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Nella giornata di giovedì avremo sempre la presenza di un campo di alte pressioni tra l'Europa e il Mediterraneo, tuttavia infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord apportano ancora un po' di variabilità sui nostri rilievi. Vediamo infatti come la giornata sarà in prevalenza soleggiata su gran parte d'Italia con poche formazioni nuvolose, eccetto che nel pomeriggio sui settori alpini e prealpini e anche sulla dorsale apenimica si formerà un po' di nuvolosità cumuliforme. E dunque infine la previsione per la giornata di giovedì che vedrà a tempo sostanzialmente soleggiato e asciutto su gran parte d'Italia, con possibilità di qualche breve acquazione temporale, specie sulle Alpi orientali e quella anche sulla dorsale, in particolare quella meridionale. Vedete il clima tipicamente estivo pur senza picchi elevati, avremo comunque massime che potranno raggiungere i 34-35 gradi nelle aree interne del centro-sud. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.